ciao a tutti ragazzi oggi siamo su gta online per mostrarvi un vecchio glitch con il quale potrete andare sotto mappa questo glitch lo avevamo caricato precisamente l'anno scorso sul canale di caronte e richiedeva due persone come vedete adesso si potrà fare anche da soli basta che andrete a persona qualsiasi auto in movimento e butterete fuori il guidatore vi farete seguire precisamente come sto facendo io in questo modo e andrete nel punto dove sto andando io adesso allora ragazzi i punti sono due per andare sotto nell'acqua uno è questo però un po più complicato quindi vi consiglio questo una volta che salite qui premete r1 e fatevi tirare i calci dal guidatore dell'auto che avete buttato fuori in questo modo se dovesse capitarvi che vi porta sopra o in un altro punto riprovate fin quando non andrete sotto ok ragazzi una volta che ci butta sotto potremo esplorare tutta la zona circostante tranquillamente vi consiglio vivamente di andare a comprare all'ammunation i respiratori perché in alcuni punti potrà capitare che vi porta sotto quindi magari voi mi mettete il respiratore e riuscirete a ritornare sopra potrete magari trovare un punto dove vi farà utilizzare le armi magari su una roccia o in qualche altro punto così potrete essere anche in gold mode come vedete una volta che arriviamo in alcuni punti il gioco ci porterà completamente sotto quindi una volta qui vi consiglio magari di usare il respiratore per poter risalire fin sopra in alcuni punti purtroppo il giocatore cadrà proprio nel vuoto fin quando non ritornerà completamente sulla strada se dovesse servirvi un account moddato scrivetemi sul mio profilo facebook che lascerò in descrizione magari inviatemi prima la richiesta d'amicizia perché i messaggi a volte vanno nelle richieste se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi ciao a tutti